Nei giorni scorsi si è parlato in più occasioni della possibilità di un mio impegno in politica come candidato a sindaco nelle elezioni amministrative del prossimo mese di maggio. Dopo un'attenta valutazione, supportata anche da alcuni dati relativi ad un sondaggio commissionato ad una società specializzata, ho ritenuto opportuno rinunciare a questo gravoso impegno e di continuare a dedicarmi all'attività giornalistica come direttore responsabile di Fano TV.